DJ Mavic Mini, parliamo di questa avventura con il drone più piccolo al mondo, con Gimba stabilizzato a tre assi e una camme da 2K e 7. È l'ultimo limite estremo che si è prefissato il noto marchio di droni più famoso al mondo come la DJI e a distanza di mesi dall'uscita sul mercato europeo vogliamo parlare di limiti e aspettative e del futuro di un prodotto racchiuso in solo 249 grammi. Per hobbisti e professionisti c'è voglia di volare spesso e senza sanzioni. Naturalmente tutto ciò sarà visionabile ma dopo la sigla. Avventura sì come da titolo, inteso come esperienza di volo naturalmente, attraverso questo magnifico quadricottero che per molti e un po' per tutti i costruttori, assemblatori o amanti dell'upgrade del volo da drone hanno almeno considerato di poter ottenere su un modello alla pari di un risultato simile a tutto ciò. Eccolo finalmente il drone tanto ambito e si è manifestato a circa 8 anni dal boom e dalla conoscenza di droni in genere e nel nostro paese. E ci viene commercializzato naturalmente non come un pro per il prezzo e tante funzioni meno ampie sul drone e applicazione e per la sua classificazione futura ENAC e ASA in totale accordo per i droni sotto i 250 grammi che verrà messa in discussione, ahimè speriamo definitivamente, a dicembre di questo anno. Ma ora ci godiamo il contenuto della versione Fly More Combo che abbiamo selezionato per voi. Ecco il nostro piccolo drone racchiuso nella versione più completa e accessoriata fino ai denti sì perché sarà proprio lui ad attaccare il regolamento europeo e ASA rimandato a fine anno. Regalandoci come da Rumors quella libertà in più rivolta soprattutto ai professionisti e patentati che possono volare sempre e comunque con le accortezze che la vecchia e nuova legislazione metterà in vigore. E ciò significa che questo drone si posizionerà in uno sviluppo precoce affiancando i suoi fratelli maggiori in un piccolo spazio ma con una totale responsabilità rivolta ad un grande range di consumo. All'interno del nostro box o scatola DJI troviamo da subito l'oggetto più ingombrante decisamente contro tendenza di tutto il contenuto ma abbiamo un'ottima gabbia per rendere totalmente inoffensivo il nostro drone. A seguire troviamo il Mavic Mini con relativo telecomando, un caricabatterie da 3 con le sue 3 batterie lion in dotazione, 2 cavi USB per la ricarica singola o sequenziale. Sì perché il nostro drone attraverso un trasformatore da cellulare o a parete può ricaricare una sola batteria o anche 3 batterie in sequenza e completare o terminare con la ricarica del nostro telecomando o cellulare. Un'operazione semplice e apprezzata anche attraverso la ricarica più lenta ma fruibile attraverso un semplice charger per tutti coloro che viaggiano leggeri e di fortuna. Naturalmente il tutto era chiuso e al proprio posto nella comoda e bellissima valeggetta porta drone. Finiamo il contenuto della scatola attraverso tanti ricambi come eliche, cavetterie per i iPhone e Android, un cacciavite dedicato per la sostituzione delle eliche e i consueti manuali d'uso e configurazione. Ma ora passiamo alla nostra pagella e subito dopo alle consuede riflessioni Slash. La sintesi è che non si riesce a non parlare dei mali mini tradizionali. Ne abbiamo sentite ricotte di crude con episodi fantastici e da Guinness dei primati su distanze, eccetera. Ma ripetiamo e confermiamo la nostra esperienza diretta al volo, dando il giusto peso ad un prodotto per noi, per volo, per un giocattolo che è l'elfiletto. Qui alla Slash Shop sappiamo che cosa vogliamo e quando alle ciance il nostro consiglio all'acquisto rimane tale è un drone assolutamente da prendere. Per un futuro certo di un ruolo meno prestitivo in ambito non solo europeo ma mondiale, che si stende dal semplice ruolo senza attestati alla totale non domanda ad enti che ne frena l'impiego imminente di ruolo e acquisizione in ambito fuori e guida. Vi raccomando, sempre assicurati, è un obbligo internazionale di tutte le categorie, ma arriviamo alle impressioni che hanno totalizzato contro e contro i nostri 4 Slash a punteggio timonale. Avendo dall'aspetto più negativo ed è evidente, sottolineiamo la perdita di segnale? Beh, assolutamente sì. Intorno ai 300-400 mm, soprattutto con le stati da superare tra guida e del drone, non supereremo questa soglia denunciata dalla casa madre con un range molto molto più ampio. Il tutto è migliorabile con le antenne di agi, un piccolo accessorio che troverete qui in descrizione. non fanno miracoli, ma sono capaci di fornire più portata, stabilità e meno lacrimine. Però ritornando alle distanze, al nostro avviso, è un range ottimale e sufficiente nell'ambito di sicurezza per un volo a vista soggetto al 70% a raffini di vento in quota, spesso segnalate ad ogni volo. Ma dove il nostro modello di drone si comporta in modo eccelso, con una posizione impeccabile, ha qualsiasi quota ed un retro-to-home veramente attivo. Il suo peso naturalmente e anche il suo limite, questi aspetti o limite appena citati ci invitano ad una coscienza di volo sicuramente forte, non trascurabile e non sottolineata come da tanti arbitri. Ottima la sua nuova applicazione DJ Fly, tutta in lingua italiana, decisamente facile per tutti e molto semplice per i pro, anche se il nostro consiglio più mirato per questa app è di chiudere sempre la sessione di rec, da telefono o iPad ad ogni volo. Prima di sganciare telecomando e drone per non perdere i dati acquisiti dalla nostra sessione fotografica e video. Tante le funzioni baseranno in genere per imparare a gestire le difficoltà e i grandi droni in un prossimo futuro, grazie a queste piccole e croni meno complete a livello di software riusciremo ad acquisire sicuramente una vita più sicura e manuale, taglio pilota e meno automatizzata attraverso le singole o nuove applicazioni più complete dei droni di fascia superiore. Per gli accessori extra e di upgrade oltre la combo appena citata, è sempre pronti all'uso, consigliamo almeno un polarizzatore circolare ed un'empatrice per una migliore visione di vita. Il tutto affiancato da dei paralleli che ti arregla con le cooperative da soli 14 grammi per far colare il nostro drone con tutte le registrazioni, è anche del caso, per scenari urbani della classe 300. eliminando così la modalità di carico e consumo che il nostro drone in cima ingesterà come avviso al volo con i parenti originali da 46 grammi della licea. A questo punto vi auguriamo con il DJ MyRick Mini tutta la migliore esperienza in volo e divertimento dopo gli acquisti attraverso i link in descrizione per ogni singolo contenuto ci dà. Un saluto da Slash Shop a tutti voi, iscrivetevi al canale per condividere commenti e recensioni tuttando la campanella per i prossimi consigli agli artisti. La caratteristica è tutto, alla prossima ci vediamo sul canale di Slash Shop.it Affiliate Store